la mano fresca di un sottilissimo cotone si abbina alla leggera irregolarità tipica del lino creando un filato dall'aspetto sportivo leggermente mosso decisamente estivo certificato european flex il lino e ocs il cotone il filato a titolo 18 mila da lavorare alla macchina 12 o 14 un aspetto di maglia leggera ed estivo per un nuovo stile informale da utilizzare anche in tinto capo o in nuove tinture artigianali eco sostenibili si produce in tinto filo con un minimo di 20 kg sono disponibili per le campionature colori promozionali senza minimi in cartella si trova anche la sua versione cinè fatta di colori accattivanti adatti a maglie dal sapore sportivo o per un'interpretazione sia maschile che femminile in cartella sono segnalati i colori disponibili per la campionatura senza minimi per gli altri colori cinè serviranno 6 kg